E' deceduto all'ospedale di Battipaglia il 75enne residente a campagna coinvolto nell'incidente in cui una settimana fa hanno perso la vita i carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro. L'uomo che viaggiava a bordo della terza auto coinvolta nella carambola mortale tra un SUV e una gazzella dell'arma era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Al momento la salma si trova sotto sequestro all'obitorio dello stesso ospedale e il magistrato ha disposto l'autopsia. Diviene dunque di tre morti il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella strada statale che collega i comuni di Campagna ed Eboli. Alla guida del SUV una donna di 31 anni residente ad Eboli che era in compagnia di un'amica 19enne. La conducente del SUV è risultata positiva ad alcol e cocaina. La donna è indagata per omicidio stradale dalla procura di Salerno che coordina le indagini che sono affidate alla polizia stradale di Eboli. Il sindacato degli operatori sanitari Nursind ha espresso profondo sdegno e indignazione per l'aggressione subita da un operatore sanitario presso il pronto soccorso di Battipaglia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. L'aggressione nei confronti del collega ha suscitato non solo solidarietà e vicinanza da parte del sindacato ma anche un netto e chiaro segnale di disapprovazione nei confronti dell'azienda sanitaria locale di Salerno che secondo il sindacato continua ad ignorare le reali necessità e preoccupazioni dei suoi dipendenti. Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind provinciale, ha sottolineato come la mancanza di fiducia nei confronti dell'Asl di Salerno sia alimentata dalla persistente inerzia nel prendere in considerazione le direttive disconnesse dalla realtà lavorativa e nel non analizzare adeguatamente i fenomeni che conducono alle ripetute aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Nonostante la richiesta d'incontro con i vertici del nosocomio datata 6 aprile, il sindacato denuncia di non aver ricevuto alcuna risposta. Per Tomasco, i vertici dell'Asl hanno trascurato il grido d'allarme lanciato in occasione di eventi precedenti che purtroppo si sono materializzati nella tragica aggressione subita dall'operatore sanitario a battipaglia. I militari del nucleo carabinieri forestale di Castellammare di Stabbia e quelli del gruppo carabinieri forestale di Napoli nell'ambito dei controlli sul fiume Sarno hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria tre persone di 40, 70 e 75 anni. Secondo gli investigatori, i tre uomini in qualità di committente dei lavori e proprietari esercitavano un'attività di autofficina meccanica senza alcun titolo abilitativo. L'attività si svolgeva in un piazzale privo di copertura e senza vasche di raccolta dei reflui industriali. Gli oli esausti delle autovetture percolavano direttamente sul suolo senza transitare nelle vasche di prefiltraggio e di isolazione. Una situazione di inquinamento ambientale che aveva importanti ripercussioni anche sul vicino fiume Sarno, di qui il sequestro dell'aria e la chiusura dell'attività. Fine settimana movimentato lungo il sentiero degli dei. La straordinaria meta turistica costiera è stata raggiunta da decine di escursionisti appassionati del mare e della montagna, tra questi anche i due turisti che hanno dovuto far ricorso ai vigili del fuoco per fare rientro a casa. Alla sala operativa dei vigili del fuoco è pervenuta una richiesta di aiuto presso la mattonella numero 12. Sul posto la squadra competente per territorio del distaccamento di Maiori. Tramite il personale specializzato in topografia applicata al soccorso o presenti in servizio al comando sono state georeferenziate le persone ed è stato inviato un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno con gli elisocorritori. Sono state dunque recuperate due persone di nazionalità tedesca, eli trasportate all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le cure del caso. Ad intervenire anche una squadra per l'elioassistenza per l'atterraggio di uno dei due malcapitati consegnati alle cure del 118. I malcapitati avevano accusato un malore, probabilmente a causa del gran caldo. E' per questa ragione che agli escursionisti più esperti e ancora di più ai principianti i vigili del fuoco raccomandano di prestare particolare attenzione alla descrizione del percorso e alla compatibilità tra lo sforzo e le proprie condizioni fisiche. Il sentiero è per tutti ma deve essere ancora più apprezzato in condizioni di assoluta sicurezza. Un grande investimento della regione per essere a fianco di un settore che ha una grandissima idracità e che è anche fortemente attrattivo. In sostanza partendo dall'originalità delle nostre produzioni, dai nostri vitigni autoctoni, stiamo cercando di tutti di orientarci verso il centro, verso la Campania che è un brand che dobbiamo assolutamente sostenere e promuovere. Un grande Vinitaly per le aziende, già questa mattina si segnalano grandi successi, ma d'altronde è la Campania, c'è la vivacità dei nostri produttori ma c'è anche la qualità delle nostre produzioni di vitivinicole. Ci sono tantissimi giovani, tantissime donne che rappresentano le aziende produttive, quindi c'è davvero un bel fermento e noi come regione Campania, io come assessore, il presidente De Luca in primis, stiamo accompagnando questo percorso di crescita. Incremento delle abilità sensoriali e psicomotorie in bambini di prima e seconda infanzia con disturbi dello spettro autistico. E' questo l'ultimo impegno in ordine di tempo della cooperativa sociale Giovamente. Il sodalizio ha portato a termine un'importante ricerca, Motor Sensor Room, con l'obiettivo di predisporre un training educativo, riabilitativo, di tipo sensoriale e motorio per bambini dai 18 mesi ai 10 anni. Lo studio, condotto dalla pedagogista Rosa Amandia e tre collaboratori di Giovamente, con la partecipazione dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Scuola Medica Salernitana, grazie alla collaborazione della professoressa Giulia Savarese, è stato illustrato presso la sede della cooperativa in via San Leonardo a Salerno. All'incontro, oltre a Rosa Amandia, vicepresidente di Giovamente, e ai collaboratori Michele Piscitelli, Francesca Impemba, Anna Tania Di Siervi e Giulia Savarese, il dottor Giulio Corrivetti, responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asla di Salerno e i rappresentanti dei comuni di Salerno, Ponte Cagnano e Sant'Arsenio. Il presidente di Giovamente, Luga Goffredo, ha sottolineato la valenza di questo primo progetto di ricerca scientifica, una stanza sensomotoria che rappresenta un ambiente appositamente progettato da un team di esperti con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sensoriale e le capacità motori dei bambini. La stanza sensoriale, creata con cura e dedizione dalla cooperativa Giovamente, rappresenta un ambiente progettato per stimolare i sensi e favorire lo sviluppo motorio dei bambini. Attraverso una varietà di elementi interattivi e attività coinvolgenti, la stanza offre un'esperienza multisensoriale che promuove il benessere e il progresso dei bambini in un ambiente di esplorazione e apprendimento, dove possono sviluppare le proprie capacità. Al momento sono 70 i bambini che vengono seguiti nelle strutture di Salerno, Ponte Cagnano e a breve anche Sant'Arsenio. Il nostro ordine è vicino alle donne per sensibilizzarle alla prevenzione ma soprattutto alle cure nei vari ambiti di competenze della fisioterapia, il muscolo scheletrico, posturale, uroginecologico, cardiorespiratorio e neurologico. Come ha sottolineato il presidente Paolo Esposito, l'ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta è costantemente e concretamente al fianco delle donne nel loro percorso di prevenzione sanitaria affinché, attraverso l'applicazione dei trattamenti fisioterapici e riabilitativi, possano raggiungere un benessere sempre maggiore. La riabilitazione del pavimento velvico abbiamo diverse patologie dove il fisioterapista interviene, quindi sia da un punto di vista di ipertono sia da un punto di vista anche di ipotonia. Nei giorni scorsi, con la presenza in piazza degli artisti a Napoli di un proprio gazebo nel corso della seconda edizione dell'Isola della Salute organizzata dalla quinta municipalità Vomero a Renella, i dirigenti dell'ordine dei fisioterapisti hanno messo a disposizione delle donne la loro professionalità trattando vari argomenti, tra cui la problematica dell'incondinenza urinaria, come ci spiega la dottoressa Melania Di Battista, consigliere dell'ordine. Uno degli argomenti trattati oggi è quello dell'incontinenza urinaria, un problema che purtroppo coinvolge una grossa fetta del mondo femminile, ma purtroppo non se ne parla abbastanza perché è legato a dei tabù. Il problema dell'incontinenza femminile può essere trattato in diversi modi e la fisioterapia è uno dei mezzi che abbiamo a disposizione, però purtroppo è poco conosciuto. Quindi è importante in questa giornata ricordare che le donne non sono sole, che non è un problema di cui vergognarsi, ma è un qualcosa di cui bisogna parlare. Alessandra Ciredi e Luca Cuomo, entrambi consiglieri dell'ordine interprovinciale dei fisioterapisti, sottolineano che per le donne, oltre alla salute, è necessario salvaguardare anche le pari opportunità. Come ordine dei fisioterapisti il nostro impegno a fianco delle donne riguarda la salute, ma riguarda anche la tutela delle discriminazioni di genere, quindi le pari opportunità, che sono un argomento sempre più attuale e scottante e sul quale è necessario lavorare con costanza, quindi non solo nei giorni delle celebrazioni, ma tutto l'anno, perché è necessario creare una nuova cultura e creare anche strumenti legislativi di sostegno alle donne nelle varie fasi della vita lavorativa. Siamo perfettamente concordi nel portare avanti una medicina, una riabilitazione e perché no una fisioterapia di genere che risponda appunto ai bisogni di ognuno di noi, di ogni cittadino. Il vicepresidente dell'ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Napoli, Avellino Benevento e Caserta, dottor Claudio Jovino, evidenzia il dramma delle lunghissime liste di attesa che ci sono per l'accesso alla riabilitazione. Abbiamo raccolto denunce dalla cittadinanza stessa avverso le lunghissime liste di attesa che ci sono per l'accesso alla riabilitazione delle strutture private accreditate. Ecco, è giunto il momento di cambiare paradigmi. Proponiamo un sistema di presa in carico e anche un sistema di accreditamento diretto per le cure domiciliari nel settore. La rivoluzione digitale tocca il comune irpino di Gesualdo, dove OpenFiber ha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga che raggiunge 1.422 unità immobiliari a seguito di un investimento pubblico complessivo di 670.000 euro. I principali operatori partner e gli internet service provider locali stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce per consentire a cittadini, imprese e professionisti del borgo in provincia di Avellino di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. Il progetto di cablaggio è stato presentato alla comunità locale nel corso di un incontro pubblico che si è tenuto a Palazzo Pisapia con amministratori locali, rappresentanti dell'azienda OpenFiber e dell'ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale dell'assessorato alla ricerca, innovazione e start-up della Regione Campania. Nel corso dell'incontro sono state illustrate ai cittadini le modalità per verificare la copertura del proprio indirizzo sulla sito openfiber.it, dal quale contattare uno degli operatori disponibili per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad altissima velocità. Per le segnalazioni è possibile rivolgersi sempre ad OpenFiber attraverso la piattaforma web dedicata openfiber.it slash contattaci. La rete ultraveloce, oggi disponibile a Gesualdo, si estende su ben 17 chilometri. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica è finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga gestito da Infratellitalia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il coordinamento della Regione Campania. Molto ridotto l'impatto per la posa della fibra che ha permesso di riutilizzare il 63% delle infrastrutture esistenti e l'adozione di tecniche di scavo innovative e sostenibili. Tra gli edifici pubblici raggiunti dalla fibra ottica ci sono l'Istituto Comprensivo, l'Istituto Eclanum, l'Asilo Nido Comunale, la Scuola di Musicoterapia, il Comando dei Carabinieri, il Castello, le sedi municipali, la Guardia Medica e Palazzo Pisafia. Grazie.